E questo brano mi veramente mi dà l'atmosfera giusta perché insomma parte proprio con un suono che sembra che scenda sulla piazza di Gatteo Mare e ci raccolga in un momento di emozione quindi Angeli, il sax di Fiorenzo Tassinari e qui arriva il suono con il vostro applauso per Fiorenzo A presto 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 A presto